Ciao ragazzi, un outfit velocissimo per farvi vedere come mi sono vestita tra poco uscirò e andrò a fare un giro in centro stamattina ho fatto il tatuaggio quindi non ve lo posso ancora mostrare perché è tutto aperto comunque ho fatto un fiocco, lo vedrete presto nei miei video a livello di trucco non ho fatto nulla di che è un trucco molto semplice correttore, fondosnita minerale un po' di ombretti in crema della Essence mascare matita anche a livello di accessori non ho messo nessuna collana proprio perché non posso mettere nessuna collana questi orecchini in argento comprati a mercanti per un giorno un po' di tempo fa il mio solito anello scooter orologio casio bracciale tiffane bracciale di Roberto Giannotti bracciale pomellato da questa parte il cruciani sempre di giallo fluo questo cruciani che è borchiato con le borchette dorate e che ho comprato ad Alba in un negozio che li fa proprio fare quindi non sono dei braccialetti cioè una serie nuova di crociane che ha fatto ma sono proprio una serie che fa questo negozio d'Alba di cui non ricordo il nome e questo braccialetto che è elastico color lilla beige con i 5 lire attaccati che ho comprato questo inverno a Sester vi faccio vedere come mi sono vestita che è un affitto un po' rock e borchette allora come maglia ho indossato questa maglia color bordeaux borgogna anzi come si chiama che come vedete è abbastanza corta infatti sotto sono andata a mettere una canottiera nera sempre in cotone e sopra ho messo appunto questa maglia color borgogna che rimane così con le manichine un po' tirate su quindi non proprio mezza manica ed è mi piace un sacco ovviamente l'ho preso da Raffaele a 10 euro e mi piace tantissimo cuore avanti perché ha questa croce fatta interamente in borchi a punta e le stesse borchi sono riprese qua sopra sulle spalle e mi piace un casino quando l'ho visto ho detto assolutamente mia e c'era così o verdone però mi piaceva più in questo colore sotto ho messo questo paio di jeans che sono sempre i soliti ho scoperto che è la marca e la Alcott e mi piacciono molto perché rimangono molto molto aderenti e quindi mi ci trovo veramente veramente molto bene come scarpe ho messo queste qui che sono appunto le similconverse che ho che avete già visto in altri video sono quelle tutte borchiate con le borchettine dorate lo so che in realtà avendo la maglia con le borchette argentate non stanno benissimo però alla fine non è che ho anche le borchette non è che ho anche le All Star con le borchette argentate quindi insomma ho messo questa poi qua sopra andrò a mettere un golfino questo qua che è di Zara quelli semplici fatti a cardigan con i bottoncini scollo V scollo V perché Quattorino è arrivato la ventata di freddo e quindi fa veramente veramente freddo e quindi andrò a mettere questo questo golfino così e poi adesso quando uscirò metterò la mia solita sciarpa maculata e il giubbino in pelle che tra l'altro dovrei anche cambiare perché è veramente usatissimo e come borso utilizzerò questa qua molto semplice da giorno tra l'altro oddio è pesantissima non so ah ecco scoperto perché è pesantissima perché avevo una bottiglia d'acqua e nulla questo mi piace un sacco questo fa parte sempre della serie di quelle della mia amica per informazioni vi lascio la mia mail in box di informazioni ed è molto bella perché appunto è così e qua sopra qua sotto ha la cerniera perché volendo che si può aprire o chiudere aspettando se si vuole la borsa più capiente o meno nulla spero che l'outfit vi sia piaciuto ora scappo un bacio ciao